Il motivo per cui ho deciso di iscrivermi a un corso di reformer è essenzialmente perché ne ho sentito parlare veramente molto bene, ma anche per i benefici che ne derivano a livello di mobilità della colonna e scioltezza delle articolazioni. Queste sono le parole di Monica, una socia che frequenta Atelier, lo studio personal e small group che si trova all'interno di Pura Vida 2.0 Fitness Boutique alla Dispoli. Io sono Bruna Bartolini, il direttore tecnico di Pura Vida 2.0 e questo è uno degli esercizi che si esegue sul reformer per migliorare la mobilità della colonna vertebrale ma anche sbloccare spalle e anche. Naturalmente si arriva a eseguire questo esercizio dopo un allenamento progressivo, non si inizia al primo giorno, ma sicuramente tutti i passaggi intermedi danno una grande libertà, una sensazione di libertà delle articolazioni e soprattutto un'importante elasticità a livello muscolare. Cosa aggiungere? Grazie Monica e vi aspettiamo in Atelier.